musica 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 non pure io, solo che non faccio aspetta oh no oh il bro non mi ha fatto perdere la corona eh anche se già so tanto lo so che finirà male anzi faccio una cosa aterro nel mare e la butto là almeno non la via nessuno no 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 bro al massimo se proprio non la vuoi dagliela ad Andrea da da perdiamo, ho questa sensazione boh facciamo 38 kill win Andrea quante ci dai di corona zero? una ma io pure ne ho una quindicina ne ho poche faccio vittorie ma senza la corona non sono uno suiti io ne ho 12 comunque il bro non sembra che è l'età di Giulio sembri molto più grande eh il bro c'è la voce da ciao si ma abbastanza sembra un po' Pablo, c'è un lama raga c'è un lama raga oh c'è uno suiti player da me un cazzo di lana ma 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 ucciso uno ucciso ucciso eh mi aveva fatto un botto in lana non l'avevo capito ma che era quella una sono io con la moto bravo ucciso un altro ucciso un altro il bro è pazzo ci vuole venire a farsi full di città no vai vai ah ma siamo con le build io l'ho dimenticato ok sono full di città ho uscito certo però mi servirebbe un po' ok questo ucciso un altro ah insieme a me ah ma guarda stavo fermo perché pensavo di averlo passato oh no Mr Swanky chi? ha scritto Mr Swanky si può avviare no 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 non me lo ricordo no 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 non mi va sto qua adesso c'è un amicizio ucciso un altro ucciso un altro mi fanno paura questi putti eh lo so ma quello di ieri 130 no non ti più so più interesse ah un altro player ancora il bro vieni per favore giusto per quello grazie per la fair kill c'è un'arma qui no c'è questa arma qui c'è stata in africa c'è stata in africa in indio ah bello bello meglio l'egitto ma comunque io volevo io pensavo a riuscire e io ho un mio amico egiziano le esiste e mi piaccia osarif eh infatti eh 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 vai prenditi quel rob dovremmo conquistare i suiti conquistano hanno riaggiunto lo scudo è quello che ti dà certo di scudo e certo di vita però no che schifo ti che è buono quello è l'unica cosa sensata che ha fatto forte e questo si non si vedevano aggiungerci anche io volevo io volevo il barretto se lo mettevano ovviamente il botoxone è meglio però perché non lo mettono da più tempo io no non lo so lontani per chi mi spara la gente e poi gli esplode vabbè succedo c'è la graffita che è diventata pasta ok ma adesso no no finisci la partita e infatti e infatti quindi se deve andare adesso eh sì ah lasciaci il loot il bro ci mancherai ci mancherai e niente a volte succede adios addio vabbè eh trio versus duo vabbè dai 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 buono buono ottimo per il content eh infatti buono per il content ma ti ricordo che c'era una modalità che era tutto ti ricordo ehm ormastizio si beh non l'ha mettono da un po' in effetti e in quella la ci abbiamo giocato non mi ricordo che c'era il design squad eh sempre squad quella purtroppo e abbiamo fatto squad versus duo si in botto di volte mi ricordo vabbè sì ma lì erano tutte pippe player c'erano proprio scarsi i mali si perchè ci stavano lì tipo lanciarazzi lanciagranate quindi facevano cosa a caso facevano danni allora c'è un team da me però sto arrivando io ho un team da me in teoria devo scalare oddio che paura in teoria poi in pratica non lo so ok bombato 1 bravo tanto su pippe 170 oh dobbiamo fa kill eh dai sono scarsi questi tanto io vado a pushare me ne vado abbiamo 8 di squadra dobbiamo andare via dobbiamo andare via dai andiamo a pushare un'altra città ma mi ricordo di trio dobbiamo andare all'air drop vai mi ricordo di kill in arena e 32 quindi no mi ricordo di kill in trio non so se almeno tu mi ricordo di solo in trio in trio non mi ricordo una 25 no forse 22 da solo le fatte 32 in arena si ho fatte 32 in duo ne ho fatte una ventina come record in trio sempre una ventina e poi come dire ma quanti di tre hai sull'account di carriera in singolo? eh in singolo ne ho 890 in duo ne ho più di 1000 eh che lo so in duo ne ho più di 1000 e in trio ne ho 500 tipo un po' più di te e gioco da se si sono più di te si io gioco da un capitolo io da due e mezzo quindi spizzi gioca da si sono due o tre non mi ricordo mai due o tre del capitolo 1 però è diventato uno swidi buono non si è facile è uno swidi ormai gioca da quando è nato forte non so che adesso ha detto che non poteva giocare perché stava ripassando i propri sposi eh si però io ho appena finito di ripassare ha detto che non gli ripassa mai non ha mai ripassato una madre in tutta la sua vita secondo me mi sta guardando la live e dice cosa stai dicendo di adesso vengo solo per un progetto ogni volta mi dice basta dire ma c'ho ma so full di materiali io mi sono quasi rifullato di tutto eh ma no tutto no secondo me si sono stati tutta la partita a farmare ma io ero scassi mi ero uccisi volevano a farmare per non morire ma non è servito porti lo stesso ma fanno come me io non ho ancora piazzato una parete io non ho ancora piazzato una parete io non ho ancora piazzato una parete dall'inizio della partita considera quindi manco io eh ma secondo me si sono stati scassi perchè si perchè c'era il bro si c'era il bro esatto comunque ho preso il portino della eh anch'io adesso eh rip vabbè tanto io non moro non più io non faccio lo sweetie quindi non le pio certe cose oh ma non ci sono venite neanche a piazza infatti vabbè dove stai in partita normale però quando non ci stanno i botte è pieno ci stanno 3 milioni di persone si ma il bro è passato per me meglio meglio però dobbiamo fare kill eh stanno non c'è nessuno qui non c'è nessuno io c'ho la moto vai vado a pushare vado in giro qui non c'è nessuno hanno appena arrestato vai vai io sto andando arresto eh vicino a me ah ecco ma stanno ancora arrestando aspetta no hanno appena finito di arrestare io li sto andando a pushare li pushò da sopra la montagna io ecco lì ucciso uno ma dove stanno qui da me ah ma quello è il pin cazzo madonna matti 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 sono matti sono matti hanno la mea mea ne ho ucciso uno no 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 puoi anche chillartela sei andato via l'ultimo ah lo sparo su lui dai pia 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 ah la mia moto lui vuoi rito qualcuno ha preso la mia moto credo no è andato via non so dove mi sembra verso piazza incudine vai via no sento qualcuno vuole jump si ma vabbè basta io la mappa del cerrato io vado a piazza adesso let's go don't essere qui io posso dal ponte perché sei bravo al su starà camperato qui in qualche casa qua dentro de' sicuro let's and chiudi di solito ci stanno i va oh no pare da tre player eccolo Eccolo, eccolo, è andato via No, non ci credo, ha riftato Il mio ha riftato Ucciso in volo Demolito Non c'è un'idea questo L'ho ucciso in volo Il bro E allora Ci sta il lutto che sta accadendo Ma, che brutto Proprio brutta sta scena No, sembra orrendo Ma dove? Ci sta tutto il lutto che sta accadendo dal cielo Che brutto Ah, ma qua ci sta i droni È un mio amico questo Sì, vabbè, non so quanto ci farei mai Io non trovo un'arma blu dall'inizio della partita Per farti capire E ho fatto 8 kill Mi sa un po' di sus Bella, buongiorno Eh, si pubblica fra una settimana, mi sembra Sì, sì, quello l'ho clipato Quello, top Non c'è nessuno Ce la puoi fare o arrivo? Boh, non c'è manco lo star Madonna, che flip, ragazzi Che flip E ho detto vai in creative Quinta la gruppa e rientra così Oh, oh, oh E che ne stiamo in partita stiamo facendo Ho bombato un super Ucciso un altro Oh, matti, matti, mi sparano Dove, 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 dove sei? Dove sei? Ma non smetti di spararmi, non fa me Cazzo Non mi morire Eh, no, mi hanno fatto la camera mia Non mi ero ma qui Unciso un altro Mi sparano Eh, lo so Cazzo No, come Che palle No, minchia Come mi spara un trio Porco due, ma che è, ma è in cui Non è un momento questo Ah, è vero, sono il terreno Che palle Che palle Che palle Sì, però, la devo arrivare No, la messina della Killian Family No, sono morto No, non è vero Sì, qua non sono forti Fanno poco schifo Però, secondo me, non vuole capire Infatti, la camera è vero, giusto Eh, sì, ma muore Quanto godo Scarto di merda Che palle hanno preferito Non ho capito manco tu sto Non so, scemi Infatti, lo riesco Il pro vincerà il... Solo contro di tutti Ucciso, l'ucciso, l'ucciso Mi ha salvato dal Kamehameha, è un bro È un bro, è un bro Mi ha salvato dal Kamehameha del suo mate Ma guardalo Vabbè Buono No, c'era uno con la corona Eh, lo so Ma la tua card quant'è lontana? Ah, for easy Niente Sì, no, è in culo alla loro Siamo giusti mazzi Sì Che c'avevano di mitico? Io avevo visto un martello mitico Ah, la corona Eh, questo è molto carino Ma Come c'aveva tutto il dottorinito Ma 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 questa non è più volentieri Ah, la corona non ha già ce l'ho Niente No, io sono fuori tutti i mazzi Da questa la dovevo vincere 15 kill, eh Dai, dovrei arrivare a 20 Mi dovrei fare tutti per arrivare a 20 Dai, andiamo Push Ah, qui avevano restato due minuti fa Ah, c'avevo il deltaplano Ma sono dimenticato Ah, qua te l'ho fatto io Oh, co, co, co Go, 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 go Stavo con la camera mia Oh Mica l'hanno capito che Se fanno la camera mia C'erciò tipo Con mezz'ora per spararmi Buono Vai un'altra kill fatta Ah, qui t'ha doveva Va intanto a riscaldarti Ah, no, qui non c'è stato Eh, potevi prendere Ho sentito passo Non ho mandato Guarda che resta il bro No, mi sono rotto Guarda, ho visto uno che sta restando Eccolo Perché non si rompe? No Guarda, lo faccio restare Così faccio la kill Faccio come pro player No, no Ma l'ha fatto con lo stito Lo faccio restare Così mi faccio la doppia kill Ma questo c'era Ma questo c'era Ma questo c'era Eccolo No, li hai fatto andare via con il gozo No, esplosi con il gozo Eh, sti qua erano matti Dov'è quello che avevo ucciso? Io ne avevo pillato uno Eh, perché non ha niente Poi l'altro Che ho stilato quasi Che c'è proprio Ah, beh, beh, scorda che sei live Ok Vabbè, ormai tanto Ok Uccisi Ok Ok Da me mi dovrebbe E' uno vi uno Ok, aspetta Adesso la trollo Mi curo Un acillo Allora, adesso voglio fare Tutti i tunnel Tutti quanti edit E poi ucciderlo Ok 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 No, è il giusto Che aveva più Un po' ti puoi abbassare Sì Vabbè Vabbè Vabbè, quanti kill? 20 kill 20 kill Questo lo faccio Questo diventerà un video Questo diventerà un video Se 24 kill win Non male Torniamolo al hobby Vabbè, il bro ci ha aiutato Con le sue statistiche Vabbè Grazie a tutti